buongiorno a tutti per questo nuovo pomeriggio con il nostro ciclo di seminari di pop mat ricordo anche quest'oggi che il incontro è registrato quindi chi non avesse piacere di essere registrato audio video semplicemente di disconnettere video audio chi vuole intervenire con delle domande porle sulla chat controlleremo la chat in modo tale eventualmente da dare la parola e eventualmente alla fine del seminario ci sarà lo spazio come al solito per le domande anche un momento eventualmente a registrazione spenta così tutti possono essere liberi di intervenire e partecipare quindi lascio la parola a claudio per l'introduzione del nostro della nostra relatrice di oggi grazie alessandro benvenuti a tutti in particolare a silvia siamo molto contenti di averla qui l'abbiamo già conosciuta non nel nei seminari precedenti insomma è stata una partecipante molto assidua e adesso finalmente possiamo darle la parola e siamo molto contenti anche perché in qualche modo la sua figura incarna un po lo spirito di questo seminario no è un'italiana però aperta al mondo ha studiato prima in italia diciamo fino fino alla laurea poi ha fatto un dottorato in matematica a berlino e poi si è spostata negli stati uniti a stanford dove ha ottenuto un secondo dottorato questa volta in filosofia e anche in questo no la la doppia competenza matematica e filosofia che è una cosa rarissima non conosco altre persone con il doppio dottorato in matematica e filosofia quindi insomma siamo come dire siamo veramente contenti e onorati di averti qui in mezzo a noi e adesso appunto ci parla da da dagli uger si da princeton dove ha una 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 serie di ricerca postdoc appunto all'università di princeton autrice di tante pubblicazioni importanti e riguardandole mi ha colpito in particolare una 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 pubblicazione in corso di stampa per un un manuale che dovrebbe uscire l'anno prossimo un handbook of the history and philosophy of mathematical practice che quindi come dire esattamente collegato al tema della della relazione di oggi e che non vedo l'ora di leggere non appena sarà disponibile ma vedo è previsto per l'anno prossimo non l'uscita quindi speriamo che stanno sempre un po ritardando però sì tanti altri articoli tra matematica della matematica appunto e che si collocano direi ma poi ci spiegherà lei in questo filone della della filosofia della pratica matematica a cui è dedicato l'incontro di oggi non le rubo altro tempo e lascio senz'altro la parola grazie silvia prego grazie claudio grazie a essere qui mi fa molto piacere a partecipare appunto a questa serie di seminari del laboratorio pop mat che è un'iniziativa bellissima allora condivido le diapositive intanto ecco e lasciate pure se potete volete la telecamera aperta che mi fa piacere parlare magari a delle facce piuttosto che ha dei nomi allora eh sì eh come diceva claudio appunto eh il mio background è un po non standard un po tra diverse discipline e ho deciso oggi di fare un seminario molto generale spero che non vi annoi all'inizio avevo pensato magari di parlare di un tema specifico io ho lavorato molto sui diagrammi il ruolo dei diagrammi in matematica però invece ho deciso di dare un po' una una visione diciamo generale di che cos'è la filosofia della pratica della matematica e come si distingue da altri tipi di filosofie della matematica e è vero che in altri seminari tipo la scorsa settimana abbiamo visto eh il caso di eh Maria Gaetana Agnesi eh di Massimo Mazzotti che appunto ha parlato di un caso specifico quella prima con Ciro Ciliberto della geometria algebrica italiana del 1920 eccetera però appunto visto che ci sono tanti matematici tanti storici e altri filosofi ho pensato appunto di dare un'idea d'insieme allora mi scuso intanto se eh il mio italiano è un po' così arrugginito perché non sono abituata come Claudio diceva sono all'estero da tanto tempo e mi fa piacere in realtà usare la mia lingua per fare un seminario ma è una cosa molto inusuale per me allora inizia subito eh qua vedo che ci sono varie persone della waiting list mi vengono i messaggi non so se Alessandro ah comunque inizia con la domanda diciamo principale che cos'è la filosofia della pratica della matematica beh se ci fosse una risposta semplice non sarei qua a farvi un'ora di seminario su questo tema quindi è complicato iniziamo a dire cosa non è non è una branca unificata della filosofia della matematica infatti cioè si potrebbe chiamare filosofia della matematica punto cioè è una corrente più che altro ma non è un sotto insieme e si tratta di un insieme molto eterogeneo di studi sulla matematica a volte anche interdisciplinari e la cosa diciamo principale è che la matematica viene intesa non solo come un dominio di verità immutabili ma anche come un'attività umana che è storicamente determinata e questo magari è diciamo ovvio per dei matematici è ovvio per degli storici o qualcuno che ha una formazione magari più continentale o italiana però appunto io mi muovo nel mondo della filosofia analitica anglosassone e questo non è ovvio proprio per niente come vedremo tra questi studi la filosofia viene a contatto con altre discipline cioè la storia per esempio la sociologia la psicologia la didattica e anche l'etno matematica e appunto anche qui è chiaro che in nazioni diverse questi diciamo queste discipline eh si hanno delle dei contorni diversi e magari in Italia sono più fuse mentre negli Stati Uniti sono diciamo più separate e una cosa diciamo che possiamo dire è che la filosofia della pratica della matematica si delinea più in negativa cioè possiamo avere una definizione negativa più che positiva come una reazione alla corrente principale della filosofia della matematica del ventesimo secolo allora questo è il mio programma per il seminario di oggi all'inizio vi darò un po' un punto di partenza eh vi farò un panorama della filosofia della matematica tradizionale del ventesimo secolo a grandi no grandissime linee ma giusto per dare un'idea del punto di partenza di cosa si ehm cosa si andrà a diciamo a reagire contro poi le motivazioni per un cambiamento cioè quali sono diciamo le domande che venivano ignorate prima e che invece diventano importanti e poi andrò un po' più eh in sostanza diciamo a farvi degli esempi eh di che tipo di domande che tipo di metodologia viene eh adoperata dalla filosofia della pratica matematica e in particolare parlerò vabbè di un tema importantissimo cioè la relazione tra prove formali e prove informali è chiaro che quando si tratta di pratica della matematica o di storia della matematica cioè le prove formali non è che ci dicono tanto bisogna andare a guardare veramente le dimostrazioni informali cioè tradizionali e però appunto ci sono dei dibattiti molto accesi sulla loro relazione con le prove formali e poi legato a questo parlerò un po' di eh del ruolo dei diagrammi nelle dimostrazioni sia formali che informali eh e questo è un tema che a me è molto caro ci ho lavorato molto e è proprio il tema iniziale che mi ha portata forse in filosofia e poi finirò con eh parlare un po' di fallibilismo in matematica cioè la possibilità di eh errori proprio nei nelle dimostrazioni che vengono date e finirò con delle conclusi eh considerazioni conclusive ok iniziamo subito con grandissime linee i grandi ismi eh della prima metà del ventesimo secolo eh sono sicura che riconoscete già quei tre uomini eh a sinistra della mia diapositiva che sono i tre grandi nomi associati alle tre grandi correnti dei fondazionalismi della prima metà del ventesimo secolo c'è il logicismo chiaramente associato con la figura di freghe intuizionismo brauer e formalismo Hilbert eh è chiaro che già una cosa che possiamo notare è che nella prima metà del ventesimo secolo i filosofi della matematica e i matematici erano incarnati nella stessa persona cioè queste tre persone chiaramente sono eh matematici però sono anche filosofi sono al centro del dibattito filosofico sulla matematica su come concepire la matematica e sui fondamenti della matematica quindi questo è un periodo in cui scusate non so perché le depositive vanno un po' eh in cui appunto matematici e filosofi eh sono in stretto contatto addirittura sono le stesse persone spesso però questi vari movimenti si andranno ad arginare per lasciare spazio a temi molto generali sulla natura degli oggetti matematici e della nostra conoscenza di essi infatti diciamo i vari movimenti alla fine si arginano perché cioè eh freghe sappiamo benissimo che situazione ultra drammatica cioè il suo secondo volume delle del della sua opera principale è eh in stampa diceva invece questa lettera eh da Russell che dice no c'è il paradosso di Russell quindi un disastro non funziona più niente eccetera poi chiaramente ci sono varie possibilità di metterlo a posto però insomma non si riesce più veramente a soddisfare il desiderio iniziale che era appunto di ridurre se non la matematica alla logica ma eh l'aritmetica alla logica questa era un po' l'idea del logicismo eh perché chiaramente invece freghe aveva delle idee diverse eh sulla sulla natura della geometria l'intuizionismo di Brower eh lo stesso alla fine l'idea che eh i matematici dovessero rinunciare alle prove per assurdo eh rinunciare quindi al principio del terzo escluso in logica è semplicemente qualcosa che non è avvenuto cioè infatti è molto famosa poi lo scambio Hilbert Brower e appunto Hilbert eh ha detto una cosa tipo ah togliere al matematico il l'uso del principio del terzo escluso è come togliere a un pugile l'uso dei pugni quindi no non si può proprio e quindi l'intuizionismo non era solo una corrente diciamo descrittiva della matematica ma anche normativa cioè diceva cosa dobbiamo o non dobbiamo fare e semplicemente cioè non ha non ha avuto abbastanza aderenti e il formalismo di Hilbert chiaramente anche là ci sono dei punti dei momenti di colpi di scena della storia della matematica incredibili perché nel eh c'è questa questa trasmissione radiofonica famosissima che mi sono riandata a risentire eh ieri di Hilbert che nel 1930 dice appunto parla dei progressi della matematica contemporanea e finisce dicendo cioè noi dobbiamo sapere noi sapremo e invece l'anno dopo nel 31 Gödel prova i suoi risultati limitativi e quindi eh no il sogno è infranto così questo proprio in generale però l'idea appunto di parlare di matematica in generale di avere delle grandi correnti eh di fondazionalismi invece allora andiamo nella seconda metà del ventesimo secolo la filosofia e la matematica prendono delle direzioni diverse infatti abbiamo che eh i filosofi della matematica non sono più matematici loro stessi e l'agenda diciamo della filosofia della matematica almeno analitica della seconda metà del ventesimo secolo è stata dettata da due articoli principali di Paul Benassera che è ancora qui a Princeton eh emeritus era nel dipartimento di filosofia adesso purtroppo con la pandemia non lo si vede più però insomma è sempre qui e eh ha scritto due articoli diciamo fondamentali uno del sessantacinque che si chiama what numbers could not be e l'idea in pratica partendo dal presupposto che la matematica si possa ridurre alla teoria degli insiemi quali insiemi corrispondono agli oggetti matematici cioè prendiamo il numero due che insieme è il numero due e lui fa un esempio eh di questi diciamo due bambini che vengono educati a identificare il numero due da un lato con gli ordinali di von Neumann cioè il numero due sarebbe eh l'insieme dell'insieme vuoto e dell'insieme dell'insieme vuoto o l'altro bambino invece con il il gli ordinali di zermelo che invece il il numero due sarebbe l'insieme dell'insieme dell'insieme vuoto quindi chiaramente quando questi due bambini parleranno di aritmetica avranno tutti i risultati uguali però a livello poi di esattamente che cos'è un numero naturale in termini di insieme avranno delle divergenze questo diciamo la conclusione di ciò è dire ma forse non ha senso chiedersi veramente quale specifico insieme è un numero infatti è il famoso problema di indeterminazione e è un problema cioè anche benassero stesso alla fine di quell'articolo mette eh un po' le radici o comunque dà un'idea di una proposta strutturalista per la matematica che poi è stata sviluppata insomma molto spesso eh poi il secondo articolo che forse è ancora più importante nel nostro contesto di oggi si chiama mathematical truth e è del settantatré e questo in pratica eh definisce quello che noi chiamiamo adesso il dilemma di Benazraff cioè se la matematica tratta di oggetti astratti ma cosa sono gli oggetti astratti oggetti che non hanno eh una posizione nello spazio nel tempo come possiamo noi che siamo incarnati siamo allocati in uno spazio in un tempo avere conoscenza di tali oggetti eh sembra impossibile e questa è una domanda chiaramente ultra generale è una domanda che chiaramente non è una nuova domanda cioè se ne parlava da molto tempo infatti come vedete qua Platone Ocam eh infatti è una domanda che poi va a modularsi in termini del dibattito tra platonismo e nominalismo e il termine nominalismo risale proprio alla filosofia medievale appunto degli di Ocam la matematica quindi in questo contesto in questi dibattiti viene intesa come un dominio di oggetti astratti perfetti Benazraff cioè la sua contribuzione in mathematical truth è quella proprio di mettere in risalto un'attenzione importante tra da un lato dare una storia dell'epistemologia della matematica che sia soddisfacente cioè che ci spieghi come noi facciamo a sapere la matematica e dall'altro una storia sull'ontologia della matematica che sia soddisfacente cioè cosa sono gli oggetti matematici e lui dice queste due diciamo desiderata non si riescono a soddisfare nello stesso tempo ci sono dei problemi intrinseci cioè da un lato appunto se vogliamo dare un'ontologia soddisfacente vogliamo dire ok la matematica è fatta di oggetti astratti e però poi non abbiamo una storia epistemologica che può soddisfarci e viceversa se invece abbiamo la matematica diciamo per esempio come un gioco diciamo come se fosse il gioco degli scacchi solo un po' più complicato possiamo spiegare benissimo come noi sappiamo di matematica però magari non possiamo spiegare altre proprietà della matematica importanti cioè perché appunto pensiamo che gli oggetti siano astratti eccetera cioè questi diciamo dibattiti è chiaro che sono molto più sottili è solo per darvi un diciamo come una visione generale di quello che veramente occupava tutto il tempo della filosofia della matematica della seconda metà del ventesimo secolo almeno in america o comunque nella nella filosofia inglese english speaking diciamo l'argomento più gettonato per il platonismo cioè per dire appunto ci sono questi oggetti astratti esistono eccetera è l'argomento che si chiama di indispensabilità della matematica per la scienza cioè ci dice se noi cioè la matematica è indispensabile per le nostre migliori teorie scientifiche e questo ci porta a dire che gli oggetti matematici esistono poi per carità ci sono tante ehm alternative cioè ci sono dei eh filosofi in particolare Hartreefield che dicono no in verità cioè questo esempio funzionerebbe però in fondo la matematica non è indispensabile la matematica utilissima eccetera però in fondo potremmo fare tutto senza e infatti addirittura Hartreefield c'è scritto un libro che si chiama science without numbers che ha ricostruito la meccanica newtoniana in termini di geometria sintetica eh senza numeri appunto per dimostrare che certo è molto più facile fare scienza con gli oggetti matematici però possiamo fare anche senza poi questo diciamo è da definire se questo progetto sia eh abbia un valore veramente filosofico o no però appunto per darvi un'idea mi sembra che queste questioni diciamo non sono molto eh centrali diciamo per i matematici come erano chiaramente quelle di Hilbert o Frege. Allora inoltre tutto ciò si ehm inserisce nel quadro di vari riduzionismi della matematica cioè si parte comunque dal presupposto che la matematica sia ehm sia possibile ridurre la matematica alla teoria degli insiemi ma quindi vuol dire che dal punto di vista filosofico possiamo studiare solo la logica matematica infatti anche se parliamo di eh applicabilità cioè appunto quale parte della matematica ci serve veramente nelle scienze alla fine tutto eh si riduce a una questione di insieme quali eh eh quindi mh l'unica diciamo eh eh at the bottom alla fine diciamo sono solo gli insiemi che però eh che eh pongono delle domande a livello dell'esistenza degli oggetti estratti e qua vi ho messo tra l'altro non so se riconoscete la copertina diciamo tagliata di Halmos Naive Set Theory che secondo me tutti i matematici conoscono questo libro e il filosofi no perché infatti questo dimostra che spesso i matematici non non sono molto interessati veramente della teoria degli insiemi infatti i logici matematici sono spesso eh in vari dipartimenti non si capisce anche qua a Princeton l'unico che fa teoria degli insiemi è a filosofia infatti eh inoltre questo è anche molto importante per rispondere a domande generali sulla conoscenza della matematica non si tratta di conoscere la matematica come viene praticata dai matematici o la storia della matematica meno che meno ma basta considerare matematica elementare cioè se io ho il problema degli oggetti estratti uno più uno uguale a due mi basta o due a un numero primo eh oppure se proprio vogliamo andare a essere più sofisticati ci sono infiniti numeri primi però appunto non si tratta veramente di guardare i risultati della matematica quello che veramente si fa e qua volevo vi cito questa questo passaggio di Jeremy Avigard che lui è anche un logico però è anche un filosofo della matematica che vede un po' i limiti di questo questo quadro diciamo su cui la filosofia della matematica ha operato nella seconda metà del ventesimo secolo allora nelle sue parole perché sono molto poetiche o belle ah qui vi dico the problem is that satiratica idealization idealizes too much mathematical thought is messy when we dig beneath the neatly composed surface we find a great buzzing blooming confusion of ideas and we have a lot to learn about how mathematics channels these well springs of creativity into rigorous scientific discourse cioè l'idea qua dice ok magari nella superficie della matematica vediamo tutto in ordine tutto rigoroso eccetera ma da dove viene tutto questo ordine questo rigore cioè viene da qualcosa di più incasinato diciamo che si trova sotto che necessita una spiegazione filosofica e poi continua ma per farlo bisogna considerare la matematica veramente la storia della matematica e non solo appunto la teoria degli insiemi and so the call of the sirens is pleasant and enhancing mathematics is set theory just tells us a real story about abstract objects and the secrets of the universe will be unlocked the siren songs as how the philosophy of mathematics in troll leaving it to drift into the rocky shores questo anche volevo darvi una citazione da un filosofo diciamo affermato eccetera perché non è che sono solo io che dico ah c'è stata questa diciamo ossessione per il problema degli oggetti astratti o per gli riduzionismi è un qualcosa che molti filosofi della matematica hanno iniziato a sentire e infatti c'è c'è bisogno di una riforma e è da qui che appunto iniscono eh eh saltano fuori nuovi approcci nuove domande eh ci sono varie motivazioni per allargare i temi di studio per esempio il passato la storia della matematica appunto abbiamo parlato si parla tanto della eh geometria algebrica la scuola di geometria algebrica italiana e per capire appunto nella conferenza di Ciro Ciliberto qualche settimana fa si parlava appunto per capire per esempio le dimostrazioni di Enriquez bisogna andare a guardarsi eh la sua lingua imparare la sua lingua e non eh cioè eh ridurre tutto a cioè la non ridurre tutta la matematica passata come non rigorosa e basta cioè bisogna capire veramente eh cosa si diceva quindi il passato il presente anche cosa stiamo facendo adesso quando facciamo matematica e il futuro cioè quali sono per esempio le nuove tecnologie come contribuiranno nella matematica del futuro anche questa una domanda molto importante chiaramente ignorata poi un altro presupposto è che le scienze come psicologia e sociologia della matematica magari possono darci dei dati importanti per capire che cos'è la matematica anche come attività umana e poi chiaramente anche la didattica in maniera simile ecco qui quindi nel duemila otto viene fuori questo libro di Paolo Mancoso di Berkeley che si chiama The Philosophy of Mathematical Practice che include eh una serie di articoli che secondo me sono molto rappresentativi eh quindi vi consiglio magari di darci un'occhiata non è l'unico volume eh della filosofia della pratica matematica ma è quello forse più prettamente filosofico altri sono ancora più interdisciplinari appunto parlano più di sociologia didattica eccetera ehm quindi questo termine alla fine filosofia della pratica matematica si riferisce a un approccio a un gruppo di approcci interdisciplinari che emergono più che altro proprio dalla volontà di estendere il programma di ricerca della filosofia analitica della matematica quindi la matematica è una pratica eh è praticata da persone in carne e ossa da matematici in un preciso contesto storico quindi dobbiamo considerare la storia e dobbiamo considerare anche un po' la psicologia cioè la matematica dipende non solo dai fatti diciamo gli oggetti astratti ma anche da come siamo fatti noi cioè dalla nostra architettura cognitiva e qui vi do un'altra citazione di mancoso proprio nell'introduzione di quel libro in cui dice Cosa vuol dire eh il focus esclusivo al problema dell'accesso il problema dell'accesso è semplicemente quello che vi dicevo prima di Ben Asraf l'accesso agli oggetti astratti ah quindi che per un problema per cui non serve solo per la matematica ma solo pensare a uno più uno fa due e poi continua mancoso the epistemology of mathematics need to be extended well beyond its present confines to address epistemological issues having to do with fruitfulness evidence visualization diagrammatic reasoning understanding explanation and other aspects of mathematical epistemology which are orthogonal to the problem of access to abstract objects quindi lui dice esplicitamente ci sono tutti questi altri temi che sono stati completamente ignorati andiamo a guardarli in particolare appunto io mi sono sentita chiamare appunto per i tennis la visualizzazione e ragionamento diagrammatico appunto perché facevo geometria allora ehm qua non voglio darvi l'impressione chiaramente che eh questo movimento eh esca dal nulla è chiaro che ci sono dei precursori ma sono dei precursori un po' isolati cioè pensiamo eh negli anni fin anni settanta viene fuori l'Akatosh proof and refutation che è un classico e che chiaramente eh ha un approccio diciamo molto simile a quello della filosofia della pratica della matematica però è appunto isolato questo testo un po' gioca un ruolo simile a quello che la struttura delle rivoluzioni scientifiche di cune aveva giocato per la filosofia della scienza cioè aprire la filosofia alla pratica però lo fa in maniera un po' più diluita eh nel tempo la matematica dall'Akatosh viene presentata in movimento e non come un insieme di teorie statiche infallibili quindi si va a guardare proprio la storia della matematica e il suo evolversi i concetti soprattutto dice l'Akatosh sono dinamici e si ottengono attraverso esempi e contro esempi e poi una cosa importantissima ci si inizia a interessare non solo a come un risultato viene dimostrato ma anche come viene scoperto cioè se voi guardate adesso il sottotitolo del logic of mathematical discovery cioè questo è già un'eresia rispetto alla filosofia della matematica tradizionale perché normalmente si dice no cioè l'unica cosa che ci interessa è justification cioè giustificazione non discovery però appunto l'Akatosh un po' rompe diciamo questo quest'idea e il suo libro come immagino voi sappiate si tratta di un dialogo con tante note storiche in cui in una classe ci sono vari studenti e un professore e è una ricostruzione razionale di vari tentativi per provare la congettura di Olero sui poliedri cioè la congettura che dice di il numero di vertici meno il numero di lati più il numero di facce uguale a due cioè se noi guardiamo per esempio un cubo come questo possiamo fare questo conto quanti vertici sono 8 quante facce ci sono 6 quindi 8 più 6 14 meno il numero di lati quanti lati ci sono 12 e quindi fa 2 allora proviamo con altri poliedri con tutti i solidi platonici come il cubo fa sempre due e quindi questi studenti iniziano a fare queste prove un po' quasi empiriche e vedono ah è sempre due allora cerchiamo di provare questa congettura e poi uno studente brillante dice e questo cosa facciamo con questo questo oggetto è un cubo con un cubetto dentro e quindi ha un cubo con un buco a forma di cubo allora dice ma è questo scusa allora controlliamo quanto è v meno l più f in questo caso allora è chiaro che se abbiamo un cubo e un cubo dentro tutto sarà moltiplicato per due cioè abbiamo il doppio del numero di vertici il doppio del numero dei lati eccetera perché abbiamo quelli fuori quelli dentro e quindi non fa più due farà quattro e questo è un problema allora dicono ah ho trovato un controesempio e l'hack tosh invece mette in evidenza il fatto che il concetto di poliedro non era fissato ma è un concetto fluido che va a definirsi appunto con vari tentativi e poi noi sappiamo chiaramente che la questa formula di violero per il poliedro in realtà è una proprietà della sfera e appunto possiamo vedere ciò immaginando immaginandoci un poliedro fatto di fil di ferro in una sfera e una luce diciamo al centro lo proiettiamo nella sfera ci dà una decomposizione della sfera e quindi alla fine tutto va a ridursi a proprietà della sfera mentre questo non si può fare chiaramente se il il cubo ha un cubetto dentro però questo insomma è interessante vedere come lui mette in evidenza diciamo l'evoluzione dei concetti matematici ma anche partendo diciamo da definizioni più precise più stabili possiamo comunque ah no qua volevo dire sì è il metodo quasi empirico e lui dice c'è un elemento di fallibilismo proprio comunque volevo dire che anche partendo da definizioni più precisa c'è una bella differenza tra prove informali e prove formali comunque e questa differenza accentuata soprattutto da filosofi della pratica della matematica che appunto vogliono guardare cosa fanno i matematici non cosa potrebbero fare i matematici quindi c'è è un dato di fatto che noi non abbiamo a disposizione molte prove formali cioè proprio non ci sono tantissimi risultati di matematica contemporanea non sono stati formalizzati eppure non vogliamo buttarli via allora nonostante la loro differenza è ovvio che però ci deve essere un legame tra prove formali e prove informali per esempio nel 1963 Cohen è dimostrato che l'ipotesi continua è indipendente da ZFC cioè Zermel-Franklin plus choice cioè gli assieme della teoria dell'insieme allora quando ha dimostrato questa cosa è chiaro che un matematico perderebbe solo tempo a cercare di provare l'ipotesi del continuo quindi l'esistenza della prova formale ha una condizione sine qua non per l'esistenza di una prova informale e qui tutti sono d'accordo quello su cui non sono d'accordo è qual è esattamente questo legame cioè si può veramente associare a una prova informale una particolare prova formale o no e diciamo questo problema è stato analizzato guardando il caso della scacchiera mutilata è un esempio molto semplice che secondo me è stato usato anche in maniera forse controintuitiva comunque questo l'esempio vi do il problema magari mi date la soluzione allora abbiamo una scacchiera normale consideriamo i domino fatti come dei tasselli che sono hanno due caselle una bianca una nera soliti domino allora prendiamo una scacchiera iniziale e la mutiliamo in modo seguente togliamo una casella in alto a destra cioè la prima casella in alto a destra e l'ultima casella in basso a sinistra cioè le togliamo quindi abbiamo una scacchiera mutilata senza due caselle allora la domanda è posso ricoprire questa scacchiera mutilata con dei domino? vi domando è una domanda molto banale posso o no? no non posso perché no perché ho tolto due caselle bianche i domino sono uno bianco non è nero e sarà impossibile ricoprire questa scacchiera mutilata con dei domino cioè questo in realtà è una un passaggio cioè proprio molto banale il problema è che anche cose così banali che noi diamo ovvie che quindi non abbia non hanno bisogno di ulteriore giustificazione invece per formalizzarle è un gran lavoro cioè non è un qualcosa che viene automaticamente infatti in questo esempio è stato usato per mostrare che la relazione tra prove formali e informali in realtà è troppo debole per dirci qualcosa di essenziale invece Avigard sempre ha fatto un programma in lean cioè computational proof assistant cioè una prova formale formalmente verificata che un po' va a tracciare il ragionamento informale però comunque è un bello lavoraccio quindi c'è una differenza sostanziale allora come facciamo a definire quindi il rigore delle prove informali una prova rigorosa se contiene abbastanza dettagli per convincere in modo giusto il suo audience dell'esistenza di una prova formale questa è un'idea di definire rigore il mio collega John Burgess per esempio adotta un'idea simile l'idea qua da Steiner viene che è che il logico in un certo senso è come un'allevatrice socratica cioè Socrate usa questa metafora dell'allevatrice nel tetetto in altri dialoghi di Platone l'idea è che con il suo aiuto la matematica riesce a produrre una prova formale cioè lei ha una una prova informale da quella riesce a produrre una prova formale tramite il logico con tanto lavoro e pazienza però i matematici in generale sono indifferenti a questo passaggio indifferente soprattutto ai dettagli di questo passaggio ma allora ci chiediamo chi è l'audience e quanti dettagli bastano se diciamo che una prova è rigorosa se contiene abbastanza dettagli ma per chi cioè appunto per qualcuno che deve sapere la lingua quindi ci sono dei metodi di alto livello per effettuare inferenze che sono sufficienti come nel caso della scacchiera mutilata cioè per noi è ovvio cioè certe cose sono ovvie non dobbiamo più starle a spiegare però appunto ci vuole una certa un certo background knowledge cioè una conoscenza insomma di fondo inoltre spesso una prova viene accettata perché viene riconosciuta corretta cioè sappiamo per esempio come vi mostrerò che una visualizzazione funziona e solo dopo inferiamo che sia formalizzabile esattamente perché già la riconosciamo come corretta e sappiamo che corretta alla fine è uguale e formalizzabile allora quali sono i processi di verificazione i processi di verificazione delle prove informali saranno locali cioè dipenderanno dal contesto mentre chiaramente non è la stessa cosa per le prove formali cioè dobbiamo riconoscere quali tipi di inferenze sono affidabili cioè quali sono gli antinemi accettabili cioè quali bughi possiamo lasciare le dimostrazioni ma senza diciamo intaccare la loro essenza e questo dipenderà dal contesto in certe branche della matematica come nella topologia a basse dimensioni potremmo usare un tipo di intuizione spaziale che invece non è consentita in altre branche allora e questo mi porta al secondo diciamo tema che di cui parlo oggi che è molto legato chiaramente ma il tema un po' dei diagrammi che appunto è legato perché spesso si dice a una prova diagrammatica magari non è abbastanza rigorosa o eccetera allora iniziamo dall'inizio inizio un inizio gli elementi di euclide la geometria euclidea gli elementi di euclide non soddisfano i criteri del rigore matematico di oggi questo è un dato di fatto ci sono dei buchi logici enormi in euclidea allora mostriamo la cosa con la prima proposizione del primo libro degli elementi abbiamo un segmento AB e vogliamo costruire un triangolo equilatero su di questo allora cosa facciamo facciamo una costruzione euclidea ci dice bene costruisci una circonferenza centrata in A con raggio AB eccetera poi un'altra sempre con lo stesso raggio centrata in B quindi prendi il punto C che è il punto dove le circonferenze si intersecano e disegna il tuo triangolo benissimo sì benissimo solo che come faccio io a sapere che il punto C esiste cioè si intersecano queste circonferenze o no? è ovvio è là faccio il disegno faccio il diagramma certo che si intersecano sì però euclide in realtà non ha diciamo la sofisticatezza o come non ha diciamo gli strumenti logici per dimostrare che il punto C esiste cioè infatti manca chiaramente un assieme di continuità eppure cioè questo è molto importante ok diciamo bene euclide non soddisfa i nostri criteri di rigore di logica eccetera che servono per diciamo metterci nella strada giusta per arrivare alle verità matematiche però eppure la geometria euclidea funzionava pure bene lo stesso infatti è stata integrata nella geometria analitica quindi vuol dire che come facciamo a spiegare allora che funzionava così bene se la logica non ci può dire perché una cosa importante allora è che ci dovranno essere delle norme implicite perché per garantire l'uso corretto dei diagrammi infatti cioè è chiaro che i diagrammi neuclidea non è chiaro però è abbastanza probabile che i diagrammi neuclidea giochino un ruolo importante per le inferenze però come possono giocare questo ruolo devono essere regolati da delle regole che sono state messe per esempio in evidenza da Nezza ha fatto uno studio molto importante e Menders in un articolo che appunto è pubblicato proprio per la prima volta in quel libro che vi mostravo di Mancosu del 2008 allora con l'idea di Menders cioè Menders ci dice come possiamo veramente usare il diagramma euclideo in modo che sia rigoroso invece chiaramente nella storia alla fine del XIX secolo sappiamo che Pasch e Hilbert hanno proposto delle formalizzazioni della geometria euclidea diverse ci hanno creato delle dimostrazioni diverse mentre Menders l'idea la sua idea era di spiegare euclidea nei suoi termini cioè non di creare un'altra versione e un punto importante è che spesso le dimostrazioni che includono notazioni eterogenee sono alterate quando vengono tradotti in un linguaggio omogeneo e qua vi mando un passaggio di John Mumma che ha creato un sistema diagrammatico formale per la geometria euclidea basato sulle idee di Menders che se volete vi spiego un po' più in dettaglio durante le domande e dice to understand Euclide as an imperfect version of Hilbert does not just reveal flaws in the proof a considerable theoretical chunk is positive to be missing cioè una cosa diversa la formalizzazione di Hilbert in contrast a critique which takes EU as the ideal is much less dumbing EU qua non è l'Unione Europea ma è appunto questo programma che ha creato questo programma formale di geometria euclidea e dice EU actually fills the gap in Euclide's proof it does not alter their structure completely quindi proprio un modo per rigorezzare il ragionamento diagrammatico ma e oggi allora abbiamo guardato un secondo ai diagrammi euclidei e oggi qual è il ruolo epistemico dei diagrammi? possono contribuire alle prove o no? e qual è la relazione tra intuizione e formalizzazione? che tipo di intuizione si tratta? anche questo cioè intuizione è un termine ultra vago da Kant cioè che ha tantissime storie poi Klein eccetera cioè di cosa parliamo veramente? e possiamo appunto parlare di formalizzazioni quando si considera ricorso a rappresentazioni diagrammatiche e qua giusto come parentesi volevo ricordarvi che appunto l'attenzione alla pratica e a casi di studi specifici tipo guardare la geometria euclidea o guardare degli altri branche contemporanei della matematica crea la possibilità di contribuire a dibattiti tradizionali cioè proprio per arricchire i concetti filosofici di dimostrazione cos'è una dimostrazione, giustificazione, conoscenza eccetera una cosa molto importante anche nel mio lavoro con cui ho lavorato con Valeria Giardino che penso sia qui appunto nell'audience è sul ragionamento diagrammatico diciamo contemporaneo certi diagrammi formano delle vere e proprie notazioni cioè sono degli strumenti che usiamo per ragionare e degli strumenti diciamo genuini allora vi faccio l'esempio dei nodi perché è il mio caso preferito e è un esempio diciamo abbastanza semplice qua abbiamo dei diagrammi di nodi i diagrammi si interpretano facilmente diciamo come curva in tre dimensioni allora il primo diagramma là è un nodo che non sappiamo cosa sia sembra abbastanza complicato possiamo dirci una domanda è ma che nodo è questo nodo? e alla fine salta fuori che questo è un nodo snodato cioè è il nodo triviale ma come dimostriamo che lo è? cioè facciamo una serie di diagrammi che rappresentino tutti lo stesso nodo e che semplifichino via via il nostro diagramma iniziale per esempio non so se vedete la mia freccia qua da il primo al secondo prendiamo questo pezzo di nodo e lo otteniamo verso di noi in 3D e in basso e otteniamo questo ed è chiaro che con la nostra intuizione visuale questi due rappresentano lo stesso nodo e con una serie diciamo di trasformazioni simili otteniamo che alla fine è il nodo triviale allora questo è solo un esempio ma è per dire come appunto i diagrammi possono veramente darci risultati matematici e come risultati di cognizione matematica diventano importanti perché per esempio com'è che riusciamo a utilizzare questa intuizione tridimensionale? perché vediamo i nodi nello spazio ma questo succede perché quella convenzione va a usare delle delle leggi di raggruppamento visive che sono quelle che avvengono anche nel triangolo di Canizza cioè qua lo vediamo benissimo al triangolo anche se non c'è e l'idea è la stessa nei nodi cioè qua vediamo l'interruzione come un andare sotto mentre altre notazioni non ci danno la stessa possibilità ci danno magari altre proprietà matematiche importanti ma diverse allora appunto in un lavoro in collaborazione con Valeria Giardino ci siamo chiesti ma cosa vuol dire vedere in topologia? si tratta di un tipo di immaginazione particolare che non include solo la visione ma anche abilità spazio-motoriche cioè non è solo guardare un'illustrazione cioè vengono sfruttate in più delle abilità innate ma viene anche modulata con l'allenamento cioè ci vuole un'educazione particolare per vedere certe trasformazioni e non si tratta solo di rappresentare oggetti statici ma di mostrare come questi oggetti potrebbero essere trasformati qua proprio velocemente giusto per darvi un'idea questa è una prova dell'equivalenza di due rappresentazioni della sfera omologica di Poincaré che ho dovuto studiare a Bologna per la mia laurea specialistica e da un libro degli anni 70 classico di Rolfs and Knots and Lynx e in pratica lui cioè l'autore ci dice demonstration of the equivalence of the two construction eccetera cioè la dimostrazione è con l'insieme di figure ma ha un paragrafo nella pagina prima dicendo come si ottiene una figura dall'altro che è da uno a due sarà un'isotopia dopo da quattro devi tagliare però non è che ci racconta tanto e questo è interessante cioè è per un filosofo diciamo che non è interno alla comunità matematica diciamo cos'è questa cosa non sono mica abituata a vedere una cosa del genere e quindi qua è chiaro che ci chiediamo allora com'è che faccio a garantire la correttezza dell'inferenza tra uno a due è complicato infatti io mi ricordo chiedei a un mio professore e mi è stato detto beh vai a comprare il pongo vai a casa e prova poi io non ho comprato il pongo però mi sono messa a guardare queste figure che non ci sono arrivata però insomma è abbastanza interessante considerare anche questi tipi di inferenze l'ultima cosa sui diagrammi è che tanti studi erano sui diagrammi appunto geometrici, topologici eccetera però invece ci sono anche i diagrammi algebrici che sono degni di nota e che vengono usati anche questi come notazioni e in maniera dinamica non sono ancora illustrazioni statiche ma strumenti di ragionamento qui forse riconoscete un diagramma commutativo è un diagramma utilizzato per provare il five lemma di algebra omologica dove qui è un diagramma diciamo un po' decorato con varie linee diciamo tratteggiate sono degli elementi che noi portiamo a spasso nel diagramma in questa tecnica che si chiama diagramm chasing in cui il diagramma viene usato come una specie di mappa diciamo algebrica e noi appunto usiamo usiamo per provare diciamo delle proprietà e un'altra cosa importante è che tutti questi discorsi sui diagrammi in realtà valgono per le notazioni in generale quindi le notazioni diventano importanti dal punto di vista matematica di filosofia e della matematica e questo vabbè chiaro che adesso sono tutti diciamo grandi idee un po' stimolanti spero di stimolare un po' l'attenzione però giusto per diciamo essere più precisi in certi casi cambiando la notazione questo è importante non otteniamo solo una presentazione diversa della stessa prova ma una prova diversa poi è chiaro che ci sono cioè è difficilissimo definire identità criteri di identità per le prove però diciamo è plausibile pensare che a volte togliendo i diagrammi otteniamo prove diverse ok ultimissimo tema vado veloce prometto sono quasi finita che però ci tenevo diciamo a darvi un po' uno scorcio sul fallibilismo e uso questa congettura dei quattro colori perché c'è un classico e poi c'è un esempio perfetto allora la congettura dei quattro colori come voi sapete è una congettura che viene cioè i cartografi forse aveva iniziato nel diciannovesimo secolo a pensare ogni mappa può essere colorata con solo quattro colori in modo che due regioni contigue abbiano sempre colori diversi allora questa congettura diventa di interesse per i matematici attorno al 1950 quando viene comunicata a De Morgan De Morgan forse proprio pubblica qualcosa e così e poi Kelly e poi nel 1879 Camp una studente di Kelly pubblica una prova della congettura una prova il suo argomento è accurato e convincente è una prova per induzione in cui il problema viene diviso in due casi principali c'è una prova abbastanza sì accurata divisa fa tutti i casi eccetera comunque riduce il tutto a due casi principali adesso non vado in dettagli però il problema è che 11 anni dopo 11 anni cioè questa prova viene pubblicata vari matematici la controllano tutto a posto e invece 11 anni dopo Percy Heavood trova un conto esempio al caso 2-2 cioè c'è questo caso che non viene preso in considerazione da Camp allora una diceva beh un caso sarà un buchezzo nella prova no neanche proprio per niente infatti sarà difficile sarà difficile rigolarizzare questa prova ci vorrà quasi un secolo per avere una dimostrazione autentica che poi sarà basata sulle stesse idee di Camp più o meno però sarà la prima prova computer assistant cioè la prima prova dipendente da computazioni automatizzate di Apple anche nel 76 che ha causato una gran controversia sulla natura della matematica le prove eccetera comunque quello è un altro argomento però per dire 11 anni e una domanda che ci possiamo chiedere come epistemologi è è Camp giustificato a credere in questa congettura o no prima che Percy Heavood gli trovi un errore beh Camp sappiamo benissimo che non aveva una vera prova quindi non è riuscito a stabilire la congettura ma era giustificato o no secondo la tradizione di epistemologia analitica no infatti la giustificazione viene identificata con una dimostrazione deduttiva corretta però diciamo la mia intuizione un po' un progetto su cui sto lavorando al momento è che invece lui è giustificato anche se non aveva una prova infatti secondo me è importante differenziare diversi tipi di fallimenti cioè dovremmo pur trovare il modo o i termini epistemologici per differenziare il caso di camp e il caso mettiamo di un matematico sbadato che pensa di provare la congettura di Goldberg o quella qualsiasi congettura con una prova palesemente sbagliata è chiaro che sono due casi molto diversi ne sono dei due aveva delle dimostrazioni però in un caso uno è stato accettato eccetera anche dalla comunità matematica nell'altro no quindi secondo me se vogliamo capire come funziona la giustificazione matematica non possiamo ridurre né la giustificazione alle prove formali ma neanche alle prove corrette e questo forse appunto è un po' eretico come come statement come asserzione però insomma magari interessante e ci chiediamo però cosa porterà il futuro appunto anche a livello di prove sbagliate eccetera e qua velocemente vi voglio dire il caso di Volonsky qua vedete questi bellissimi alberi il bosco dell'istituto dell'istituto degli scrivanzati qua di Princeton dove lui andava e faceva le foto e vi leggo e lui allora il caso è molto interessante perché come Camp aveva una dimostrazione che era stata accettata per un decennio da tutti i matematici aveva avuto la medaglia Field e poi salta fuori dieci anni dopo che c'era un errore salta fuori da lui stesso lui trova un errore e dice as I was working on this idea I was getting more and more uncertain about how to proceed dopo aver appunto trovato l'errore and I really enjoyed discovering new structure and that there were no direct extension of structure in lower dimension but to do the work at the level of rigor and precision I felt necessary would take an enormous amount of effort and would produce a text that would be very difficult to read and who would ensure that I did not forget something and did not make a mistake if even the mistakes in much more simple arguments take years to uncover I think it was at this moment that I largely largely stopped doing what is called curiosity driven research and started to think seriously about the future cioè qual è il futuro della matematica se andiamo in domini della matematica che diventano quasi troppo difficili per noi umani da controllare forse dobbiamo chiedere aiuto ai computer e l'idea infatti di Wawonsky era di creare questi un nuovo progetto di fondamenti per la matematica con dei computational proof assistance che di alto livello che aiutassero i matematici a creare assieme alle loro prove informali delle prove formali e queste sono appunto nuove tecniche in particolare come dicevo un putiferio è nato dalla dimostrazione computer system dei quattro colori infatti qualcuno era sempre un po' dubbioso però non è una vera prova così nel 2005 George Conti è un informatico francese e invece mette a tacere la questione perché prova proprio il teorema dei quattro colori con una dimostrazione formale cioè formalmente verificata con questo programma che si chiama COC casi simili si possono trovare il più famoso forse è quello della congettura di Keplero è per questo che vedete le arance che sono solo di un colore ma sono messe in piramide perché appunto la congettura di Keplero dice qual è diciamo il modo per mettere insieme delle sfere diciamo più ottimale lui ha provato questa questa congettura non so quando diciamo prima del 2000 comunque nel 2005 viene pubblicata un anno su Mathematics dopo che 12 reviewers hanno speso un sacco di anni un sacco di tempo non ce la facevano più hanno detto basta la dobbiamo pubblicare però siamo sicuri solo al 99% è che proprio non ce la facciamo più cioè è troppo difficile infatti anche qua che Hales alla fine ha creato una prova formale formale del suo teorema ci ha messo abbastanza nel 2017 con tanti con tanti collaboratori questo progetto FlySpec a Carnegie Mellon dove appunto sviluppano questi sistemi in particolare la scritta in Lean con sistema adesso molti matematici ho conosciuto che hanno un po' smesso di fare ricerche si stanno mettendo a formalizzare tutto in Lean cioè i loro per esempio corsi di teoria di Gualua adesso stanno formalizzando tutto per creare delle nuove librerie ecco quindi ho concluso spero di non avervi tediato troppo quindi giusto per riassumere la filosofia della matematica allarga un po' l'orizzonte della filosofia della matematica tradizionale cioè la filosofia della pratica matematica che poi dovrebbe chiamarsi filosofia della matematica in fondo per esempio si analizza anche la scoperta della matematica e non solo la giustificazione non solo le prove un tema centrale che viene trattato concerne la relazione tra prove informali e prove formali in particolare come vi ho mostrato con vari esempi si può indagare la legittimità dei diagrammi e della visualizzazione nelle prove sia formali che informali e poi il problema della fallibilità chiaramente persiste e andrebbe trattato e penso di avervi mostrato il caso di Camp in cui penso sia un caso in cui sia plausibile attribuire giustificazione anche in assenza di una una dimostrazione corretta e poi ho indicato appunto cosa ci porterà al futuro non si sa con questi computational proof assistance e varie altre tecniche quindi vi ringrazio per l'attenzione e qua un'altra foto di Wawonski sempre nel bosco dell'istituto qua a Princeton grazie 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 mille applaudiamo per l'intervento ognuno lascio spazio per domande e interventi da parte dei partecipanti grazie grazie Silvia grazie mille è stata una bellissima affresco davvero come dire per dire delle cose intelligenti dovrei pensarci rifletterci spero che ci metterai poi a disposizione anche le diapositive e comunque avremo una registrazione ti volevo chiedere una cosa che mi viene in mente così un po' ingenua forse appunto hai citato questo nuovo indirizzo delle dimostrazioni assistite e mi tornava in mente quel classico testo di Giancarlo Rota sulla bellezza della matematica in cui in qualche modo individua nella bellezza di una dimostrazione come punto cruciale una sorta di illuminazione di comprensione del segreto diciamo ecco chiaramente questo aspetto si perde nelle prove assistite non so hai voglia di commentare su questo aspetto? sì grazie intanto grazie per la domanda perché quello è un altro tema molto importante che appunto viene trattato dalla filosofia della pratica matematica temi di estetica esistono veramente dei giudizi estetici in matematica si riducono a questioni epistemiche o no eccetera e l'articolo di Rota è molto interessante che dice appunto la bellezza viene dall'insight no? questo momento questo aha moment eccetera allora nella una una delle cose che diciamo ho tenuto a precisare però è chiaro che è stata un po' una un seminario molto generale quindi non sono potuta andare in dettagli ma è l'idea che a volte quando convertiamo delle prove delle dimostrazioni da un linguaggio a un altro da una notazione a un'altra cambiamo le prove stesse quindi è possibile cioè ci sono dei criteri di identità delle prove plausibili per cui appunto quando andiamo a formalizzare magari abbiamo una prova diversa però appunto dipende dipende quindi anche là si sarà caso sarà dipenderà dal caso preciso diciamo e poi volevo anche fare una precisazione appunto è menzionato i vari strumenti computazionali allora una le prove diciamo computer assisted proof sono un disastro cioè se c'è qualcosa di brutto in matematica possiamo dire che quelle sono brutte perché appunto si tratta di brute force cioè come nel teorema dei quattro colori c'è tantissimi casi andiamo a guardarli uno per uno c'è un po' il contrario di ciò che è un po' illuminante o explanatory eccetera e così quindi questo è un caso però è molto importante non confondere le prove assistite da computer cioè da computazioni con le prove formali cioè le prove formalmente verificate cioè queste sono cose completamente diverse cioè da un lato abbiamo il computer che ci aiuta a fare calcoli dall'altro abbiamo dei programmi che si stanno evolvendo proprio in questi in questo periodo che sono sempre più sofisticati che ci aiutano a convertire le stesse nostre prove informali in prove formali che possono essere verificate formalmente e questo è un lavoraccio tremendo però è un qualcosa che forse avremo a disposizione nel futuro perché sempre di più la nostra società si basa su software di tutti i tipi e il software anche deve essere formalmente verificato a volte per esempio la metropolitana 14 di Parigi che funziona con un software che deve essere formalmente verificato perché è molto importante e questo quindi queste tecniche un po' si stanno avvolendo a pari passo anche se chiaramente le prove matematiche sono molto più sofisticate e molto più difficili però sì ci tenevo insomma a dire appunto qual è la differenza in quei due casi grazie grazie mille vorrei chiedere una domanda ma magari ai matematici per sempre se vogliono questo no ma ai matematici queste questioni quanto veramente interessa dico questo no no in ultimi congratulo per la bella panoramica che ha fatto molto interessante io ascolto sempre con grande piacere ma ai matematici questi problemi dopo la separazione libertiana della figura del matematico che è anche logico e che è anche filosofo matematici lasciamo perdere i problemi della computabilità anche perché qualsiasi codice informatico è sotto anch'esso al problema della coerenza il programma che ha funzionato un miliardo di volte non è detto che un problema simile funzioni ancora un miliardo più una volta quindi si riproducono i problemi della coerenza tipici dei problemi di Gator ma matematico Alberto quanto è interessato mi sapevo che finiva così con Raffaele nell'uditorio il mio genocchio preferito il professore Civi Berto quanto è interessato a questi problemi che non sono più problemi di fondamento ma sono come dire la Catoche ha passato una vita nel tentativo di dimostrare che Platone è la sorgente di tutti i problemi legati alla realtà alla importanza alla sussistenza degli enti matematici carità ma per fortuna i matematici non si fanno paralizzare da queste da queste questioni altrimenti la rivoluzione della teoria matematica delle teorie matematiche e io devo dire che quanto più sono astratte poi prima o poi finiranno per essere applicate dagli manettoni che sono gli ingegneri allora questo problema dal punto di vista filosofico è un problema filosofico anche esso o no o è sociologico storico sociale grazie grazie per la domanda appunto di questo che interesse c'è per i matematici dipende allora una cosa che volevo dire è che spero che queste domande di pratica della matematica interessino di più rispetto alle domande diciamo solo di cosa sono gli oggetti astratti come possiamo conoscere gli oggetti astratti cos'è il numero due eccetera mentre come per esempio nella prima domanda Claudio ha menzionato cioè Rota è un matematico chiaramente con di ampio respiro appunto che ha parlato di varie cose e parla di estetica in matematica cioè quello per esempio è un tema di interesse dei matematici oppure un altro tema di interesse è la spiegazione cioè quali sono per esempio le prove the proof from the book come diceva Erdosho cioè ci sono certe prove che sono nel libro nel libro mentre altre no forse la prova della teorema dei quattro colori computer assistant forse quella non è nel libro dobbiamo ancora trovare quella diciamo quindi cercare di capire per esempio cosa vuol dire per una prova essere explanatory o o altre diciamo proprietà forse questo è qualcosa che può interessare i matematici poi è chiaro che ci sono mica deve interessare a tutti i matematici ci sono dei matematici che non hanno interesse va benissimo però magari i matematici per esempio che hanno interesse invece per la storia della loro disciplina magari potrebbero appunto fluire di certe distinzioni che vengono fatte a livello filosofico e anche appunto capire cosa vuol dire il rigore come viene modulato il rigore per esempio nel passato cioè secondo me questo anche è molto collegato con l'intervento che abbiamo visto di Ciro Ciliberto appunto sulla geometria algebrica la scuola di geometria algebrica italiana appunto a capire veramente come giudicare un movimento simile poi chiaramente sì dipenderà un po' dai gusti e chiaramente non è una corrente che vuole imporre al matematico un qualcosa di diverso cioè Brouwer o gli intuizionisti dicono bene il matematico non deve usare il principio del terzo escludo quindi invece questo è chiaramente una un tipo di filosofia insomma diverso chiaramente più che non va a dire a voler cambiare diciamo la pratica stessa se non appunto per mettere in evidenza diciamo certe certe proprietà magari anche quelle di messi in evidenza da Wovonsky eccetera mettere in evidenza oppure cioè questo forse è importante anche per i filosofi cioè mostrare ai filosofi che la matematica forse è più ricca di quello che loro pensano sia la matematica o guardano la matematica cioè più variegata più eterogenea più umana ha più aspetti diciamo degni di di studio e questo secondo me quindi da quel lato di sicuro c'è una contribuzione importante poi casomai aspetto da voi casami di terza secondo voi è interessante se posso sono Alberto Alberto solo visto che ci sono già delle mani alzate poi ti mi segni attendo un turno grazie allora darei la parola ad Achille Varzi che aveva la mano alzata grazie ciao un saluto a tutti grazie mille senti così un paio di domande innanzitutto mi piacerebbe sentire qualcosa di più quello che pensi a proposito di un tema che hai citato ma che appunto non hai trattato però mi sembra importante cioè i criteri di identità fra dimostrazioni perché questo è un problema molto complesso e lo diventa ancora di più nel momento in cui consideriamo forme di dimostrazione ben diverse da quelle all'interno delle quali magari siamo abituati ad affrontare il problema e poi in secondo luogo mi curiosiva capire un po' quando dove come entra in questo discorso la scelta di una logica piuttosto che di un'altra questo riguarda più la dimensione esplicativa che non quella di scoperta delle dimostrazioni ma giusto per fare un esempio con riferimento all'esempio al caso del triangolo equilatero di Euclide della proposizione 1 e giusto per fare un esempio che si aggancia a quello che ho appena detto a proposito di Brower e dell'intuizionismo è chiaro che ci sono modi diversi per dimostrare l'esistenza di quel punto e fa c'è una bella differenza se la dimostrazione dell'esistenza di quel punto è costruttiva o no e quindi mi chiedevo in che misura nel momento in cui passiamo alle reforme di ragionamento diagrammatico per esempio diamo per scontato sul piano per esempio cognitivo che la lettura delle immagini con cui ci troviamo ad operare e le inferenze che compiamo a partire da quelle immagini sia in qualche modo biased nei confronti di una logica piuttosto che di un'altra cioè mi potrebbe capire ripeto un po' meglio la dimensione proprio logica di tutto questo pacchetto che ci offre avrei anche altre domande ma se puoi dirmi qualcosa da questo riguardo mi fai grazie grazie no chiaro appunto ripeto era una presentazione molto generale introduttiva quindi è chiaro che non ho avuto tempo di entrare in dettaglio allora già queste due domande potrei cioè una conferenza quindi vanno bene allora la prima domanda è interessantissima cioè il criterio di identità delle prove cioè come identifichiamo due prove diverse allora un matematico secondo me in generale direbbe l'idea principale cioè la stessa prova non è la stessa prova è la stessa idea forse è una domanda che proprio ho chiesto recentemente a Ciro Ciliberto e dicevo ma allora se noi andiamo a tradurre una prova di Enriquez in linguaggio moderno è la stessa prova o no? allora secondo me una cosa che possiamo dire senza troppi dubbi è che è difficile è difficile articolare dei criteri di identità delle prove e non ci sono dei criteri di identità delle prove assoluti ma dipenderanno dal contesto cioè secondo me dipende dagli interessi di chi sta analizzando appunto le prove quindi possiamo chiaramente avere dei criteri di identità diversi allora in un estremo possiamo dire bene tutte le prove che provano lo stesso teorema le mettiamo come equivalenti allora è chiaro che questo criterio di identità è un po' troppo grosso perché non ci permette di distinguere per esempio come diceva Claudio non so una prova con certe proprietà estetico epistimologiche è una prova senza quindi insomma dipenderà è interessante che anche Timothy Gowers nel suo blog molto famoso appunto a un certo punto parla delle prove explanatory proofs e però poi dice in un'altra entrata del suo blog dice però anche la domanda diciamo principale quando sono due prove la stessa prova non è affatto facile quindi anche lui fa vari esempi e dice che forse ci sono vari criteri che possono essere adattati alla situazione di studio particolare quindi è una questione un po' fluida allora dal punto di vista diciamo dello studio delle notazioni dei diagrammi anche della cognizione se vogliamo in matematica è chiaro che vogliamo quando identifichiamo le prove per uno studio del genere vogliamo una un criterio di identità abbastanza sottile che ci permetta appunto di di apprezzare non solo cambiamenti di idee ma cambiamenti di ragionamento cioè se io vi ho mostrato quella prova diciamo banalissima di quel nodo snodato però complicato all'inizio diciamo quella quel diagramma un po' complicato come quella è una prova che quel nodo cioè il nodo rappresentato da quel diagramma è in realtà un nodo triviale è una prova che noi che noi controlliamo capiamo attraverso un ragionamento diciamo di visualizzazione spaziale io quella prova la posso benissimo convertire in una sequenza di numeri perché un diagramma dei nodi è un'entità discreta che è abbastanza facilmente convertibile in un codice numerico cioè quindi posso benissimo convertire il tutto in una prova non diagrammatica però quello che voglio dire è no quella prova comunque sarà una prova diversa perché quello che mi interessa guardare è proprio anche il ragionamento che sta alla base nella verificazione delle prove e penso che questo sia un criterio che sia plausibile appunto per questo tipo di studi risolve un po' la prima domanda un po' no è chiaro che c'è c'è tanto da dire per la seconda domanda devo dire sono un po' più incerta in effetti ho pensato un po' meno a questa cosa forse è perché dico sta insegnando con gran priest che allora le questioni di logica no però sì in effetti cioè io ho dato sempre per scontato la logica classica e non ho c'è anche il livello degli intuzionisti appunto ho detto alla fine non hanno vinto perché non hanno imposto diciamo ai matematici un cambiamento e quindi secondo me forse c'è dal mio punto di vista magari meno attenzione della logica soggiacente perché c'è meno attenzione magari dalla parte dei matematici non lo so però forse si dovrebbe pensarci più in maniera più approfondita grazie allora sempre direi andando in ordine c'è la mano alzata di Marco Andrea grazie grazie Silvia mi senti sì 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 grazie bellissima bellissima conferenza senti per riprendere l'intervento di 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 Raffaele sì io lo so se sia interessante o meno per un matematico a me è interessato quello che mi importa di più è se se un matematico la capisce o no che l'interessi o meno va bene ma non so se si capisce diciamo se se riusciamo a capire e la mia domanda è vedere se ho capito qualcosa ok perché ascoltandoti mi sono piaciuto molte frasi alcune le ho scritte e vediamo se le ho scritte bene se ho preso punti bene e ho detto ma questa si vede che è una matematica non è una filosofa e quindi non so se ho sbagliato già da adesso diciamo e perché tu dici a questo punto hai scritto mi piace molto leggo le prove diciamo per convincere hai messo tra parentesi in modo giusto il suo l'audience dell'esistenza di una prova formale mi piace mi piace tantissimo per convincere in modo giusto hai detto qualcosa del genere questo non so se i filosofi lo dicono i matematici lo dicono in quel modo giusto è come dire e poi hai parlato di enti premi accettabili si può dire anche per un filosofo se una cosa è più o meno accettabile mi è piaciuta molto diciamo e allora volevo chiederti questo la matematica io penso che sia una scienza sperimentale no e diciamo nasce dall'esperienza e mi ricordo quando ero alle scuole superiori si diceva che un esperimento è vero se è riproducibile cioè dice un fisico dice questo l'esperimento funziona se io posso rifarlo da un'altra parte sia riproducibile sia ecco esattamente la stessa cosa per la prova matematica secondo me una prova è vera se è riproducibile cioè se io domani posso andare a un convegno in Giappone con tutti i giapponesi sovietici e ripetere le mie prove e convincere una prova quindi è vera se io posso andare domani vengo a Princeton e racconto ai geometri di Princeton la mia prova se nessuno obietta la prova è accettabile è vero mi sembra di aver capito questo nel tuo ragionamento cioè ovviamente diciamo Euclide a suo tempo girava per Alessandria non so dove e riproduceva la sua prova ed era ed era accettabile ovviamente diciamo come per certi esperimenti fisici che erano accettabili cent'anni fa mille anni fa oggi non sono più accettabili perché perché il microscopio con cui andiamo a vederli è più sottile è più e quindi diciamo non c'è niente di male diciamo quindi è proprio così la matematica è la prova la matematica è un aggiornamento che sia riproducibile diciamo che sia condivisibile dalla platea allora questo è un capisco che è un po' scivoloso no? perché diciamo quando a un certo punto Matteo Salvini va in giro e convince è accettabile i suoi argomenti diventa delicato no? diventa molto delicato però diciamo qui è un po' diverso perché c'è una c'è una comunità matematica che come dici tu è preparata no? perché questa accettabilità in modo giusto ma in modo giusto c'è una scuola no? ci hanno insegnato come come vedere come pensare con la mente no? come vedere con la mente e quindi diciamo deve essere accettato proprio e quindi c'è tutto quindi dico bene che una prova matematica è come un esperimento è vero se è riproducibile allora inizia un po' dall'inizio della tua domanda intanto grazie mille della domanda molto stimolante e inizio a dire che è chiaro che ci sono delle difficoltà sempre quando si fanno lavori interdisciplinari di comprensione ma anche tra la filosofia stessa cioè io adesso appunto che mi trovo negli Stati Uniti sto facendo più epistemologia analitica e trovo che c'è pochissimo dialogo tra la filosofia della pratica e della matematica e già quello appunto cercare di trovare anche un vocabolario da usare è difficile e quindi ancora di più con i matematici allora inizio dalla tua ultima considerazione no per me non è vero che diciamo la verità matematica viene ridotta all'accettabilità non è vero perché ci sono casi in cui per esempio Newton e Leibniz non so il calcolo infinitesimale eccetera tutto era ben accettato dalla comunità eppure c'erano dei problemi sostanziali quindi diciamo la sfida secondo me è esattamente trovare diciamo la via intermedia per dire da un lato questi criteri di accettabilità sono importantissimi una condizione sine qua non per le prove però ci devono essere anche degli altri criteri esterni diciamo e quindi come questi due si mettono insieme però quindi inizio a dire questo però in realtà la tua descrizione della del mio intervento appunto no mi piace molto e chiaramente che sono assolutamente d'accordo sull'importanza appunto di questi criteri locali infatti proprio adesso sto magari manderò questo una una nuova paper for coming che appunto proprio su questi temi che cos'è una prova e come la giustificazione della matematica in realtà non è solo collegata alla questione di prova perché camp camp guardiamo il caso di camp lui aveva una buona un buon argomento matematico ultra riproducibile e come l'ha riprodotto per undici anni vari matematici l'hanno riprodotto tutti convinti quindi lui secondo me era giustificato però non io forse per questioni di stile non lo so non voglio usare la parola prova perché per me la parola prova è una parola già di successo cioè che vuol dire una prova genuina alla fine c'è un errore nella sua prova però appunto quindi voglio usare la notazione la nozione di giustificazione matematica e scollegarla dalla nozione di prova matematica e voglio invece collegarla a quest'altra nozione che io adesso chiamo per mancanza di altri nomi simil proof cioè simil prova per dire appunto esattamente quella cosa un po' che forse intendevi tu cioè quella cosa che viene accettata dalla comunità che quindi ha un certo livello di rigore eccetera che però potrebbe contenere degli errori magari non lo sappiamo quindi secondo me infatti quello è un punto proprio importantissimo di cercare di distinguere questi due concetti e però lasciare che la nozione di giustificazione sia associata a quella di simil prova quindi in realtà forse adesso il mio no iniziale si rivela come una semplice scelta linguistica diversa e quindi anche a questione degli esperimenti mi piace molto perché sia importante appunto per me diciamo come nella mia terminologia che ho sviluppato chiamo le prove shareable cioè condivisibili che quindi sì forse è questo aspetto a cui ti riferivi di riproducibilità ma nel senso di cioè un qualcosa che può essere capito come prova deduttiva corretta da un'altra matematica in una determinata comunità quindi con magari un bagaglio di esperienze di conoscenze passate questo poi volevo dire altre due cose uno in modo giusto mi piace molto che hai notato in realtà questa è una definizione simile ho preso da John Burgess ha proprio un libro è un mio collega qui e ha un libro che si chiama Rigor and Structure del 2015 e lui appunto cerca un po' di dare uno sketch di cosa sia una prova e usa un'idea simile e in pratica perché si dice in modo giusto perché se io cioè per esempio mettiamo che sia una criminale cioè prendo Claudio gli mostro la mia prova gli do una pistola alla testa cioè o credi nella mia prova o che uccido quello non è il modo giusto di convincerla per esempio oppure magari uno studente timido cioè viene convinto da professoressa per autorità quello non è il modo giusto il modo giusto sarà un modo matematico però capire veramente come definire il modo giusto non è affatto semplice quindi anche là diciamo un altro problema che viene fuori ho risposto grazie perfetto grazie allora continuo con l'ordine che ho visto delle mani alzate con Alberto Valli sì vengo anche quindi un po' mi sentite perché avevo l'audio prima che era molto basso sì sì mi sento grazie avevo fatto una riunione prima in cui c'era un problema sì rispondo un po' anche a Raffaele Mauro che chiedeva appunto come i matematici sono interessati la domanda a questo punto è quasi tautologica perché siccome sono qui e ho seguito tutto il seminario e anche la discussione evidentemente sono interessato almeno quanto basta per cercare di capire qualcosa su questo argomento sicuramente sono più interessato a un approccio come quello che Silvi ha presentato c'è qualcosa che cerca di guardare alla filosofia della pratica della matematica c'è qualcosa che abbia sia un po' più vicino diciamo al reale mestiere del matematico che ha questioni un po' più legate alle le basi fondamenti alla filosofia di base della matematica io per esempio ho letto adesso già un testo sicuramente di vari anni fa e non dei più profondi chiaramente però ho letto con piacere quel libro di Hersch and Davis che uscì all'inizio degli anni 80 che era l'esperienza del matematico experience e lì sicuramente Davis non ricordo di preciso ma era un po' più sul fronte algebrico geometrico ma Hersch è un allievo di Peter Lacks che studiava equazioni perboliche quindi lo sentivo come un fraterno parente che mi parlava un po' di come i matematici lavorano operano e pensano era anche spiritoso e divertente quindi ho trovato molto interessante il discorso e loro partivano un po' dall'Hakatos direi insomma a grandi linee poi cercavano di dirla un po' più da matematici professionisti non so se l'ho letta lì ma quindi vengo un po' diciamo a concludere questo mio discorso portando da matematico quasi ex perché sono sul filo della pensione quindi più nonno quasi che matematico quello che sono i punti di vista che posso buttare lì in modo un po' così diciamo da slogan su queste questioni e che mi maturano dalla mia esperienza da queste letture delle cose che ho fatto diciamo trovo non so se era scritto in Ashen Davis ma insomma che cos'è una dimostrazione è secondo me abbastanza per me abbastanza evidente che è ciò che convince gli esperti del settore che è un po' quello che ha detto Marco prima insomma questa non uso la parola di ripetibilità ma insomma ciò che convince gli esperti del settore alla fin fine è quello che consideriamo una dimostrazione stai parlando agli esperti del settore non a qualsiasi stai parlando dovuto rigore per poterti confrontare con questi e questo più o meno è quello che a me sembra abbastanza evidente che sia una dimostrazione un altro collega che non cito per non mettere in imbarazzo perché lo diceva come battuti in un momento conviviale che però secondo me disse una cosa che io sento moltissimo come seconda battuta diciamo su questa mia visione sulla sulla pratica della matematica forse non sulla filosofia della pratica ma almeno sulla pratica è che di sicuro la matematica non si fonda sui suoi fondamenti cioè questa battuta che mi fu fatta anni fa io la trovo verissima è certissimo che nella mia esperienza in matematica non ho avuto nessuna vera necessità di fondare la mia attività su uno studio proprio dito dei cosiddetti fondamenti della matematica non è lì il punto insomma è un'altra cosa e anche diciamo un po' sui discorsi ancora della dimostrazione altre due battute volanti von Neumann citava adesso è una citazione non l'ho precisa insomma l'ho trovata però metteva in luce anche questo carattere estetico diciamo cioè come si parte da questioni empiriche ma poi si passa un po' a un tema più creativo che è guidato a considerazioni leggiucchio qui quasi esclusivamente estetiche e diciamo ci si nutre poi di anche aspetti che abbiano un po' la bellezza per guidare la dimostrazione una dimostrazione un po' troppo pesante un po' troppo lunga alla fin fine finisce per essere forse anche difficile verifica e quindi non convince magari moltissimo gli esperti del settore e rimane un po' immagini e magari tecniche di tipo più automatico sono quelle che possono portarla a maggior diciamo a convincere di più però insomma anche bisogna un po' vedere e di nuovo un po' sulla dimostrazione alla fine i risultati belli in un certo senso dico un'altra cosa così paradossale sono quelli che sono veri anche se con dimostrazioni sbagliate cioè in qualche senso il teorema dei quattro colori l'ha fatto Kempe va bene aveva sbagliato dopo undici anni hanno trovato il caso due e due sbagliato e poi ci ha messo cento anni a turare il buco quindi magari era una cosa sottile effettivamente però alla fin fine insomma dopo aver scritto non so di quante pagine sia la dimostrazione computer assistita di Apple Apple and Akken immagino lunghissima e complessa e adesso è stata riverificata anch'essa insomma alla fine un po' diciamo l'idea basica anche se basata alla fin fine anche Kempe su esempi ma la riduzione a un numero piccolo di casi eccetera è quasi più significativa la sua che quella dopo e quindi dal punto di vista del matematico duro e puro no era sbagliata e quindi non era una dimostrazione ma siccome poi l'hanno dimostrata alla fin fine quella è giusta insomma mentre invece probabilmente non è giusta essere per parlare anche di altri santi la dimostrazione dell'ipotesi di rima di Attia perché non sta convincendo più nessuno e benché l'abbia fatta Attia e sembrasse a lui convincente non ha convinto ecco sono saltato un po' di palinfrasca ma mi veniva un po' da dire queste risposte per riportare la mia esperienza di matematico professionista grazie mille buonissime considerazioni appunto molto attinenti al tema allora dico partendo dall'inizio un attimo di Attia e varie appunto prove che vengono o non vengono accettate dalla comunità infatti un altro caso diciamo interessante è l'ultimo teorema di Fermat e la prova di Wiles che infatti viene annunciata e c'è un erroraccio cioè c'è un buco anche là e viene però identificato molto presto ma grazie appunto al controllo sociale cioè degli altri esperti e da là che poi in un anno di studio molto intensa con il suo studente Taylor riesce poi invece a fare una una prova diciamo corretta quindi sicuramente secondo me l'importanza diciamo della dimensione sociale della matematica è stata sottostimata tantissima perché c'è l'idea del genere matematico da solo così e invece no cioè la matematica è un'attività che si fa in in gruppi sociali quindi è molto importante appunto avere una specie di attività di automonitoraggio diciamo della comunità allora sulla questione di camp e della prova camp io sono d'accordo cioè infatti quello che dico io voglio dare giustificazione a questo povero camp anche se non aveva una prova però non voglio dire che aveva una prova perché voglio mantenere dei criteri diciamo esterni di cosa sia una prova cioè una prova secondo me deve essere corretta cioè e invece quella di camp non lo era era qualcosa simile a una prova per quello che io la chiamo simil proof però non è una prova questo non toglie che non dobbiamo dargli molta stima in un certo senso e appunto è proprio un fatto che la prova che abbiamo anche adesso è basata sulle sue idee cioè lui ha avuto un'idea brillante e bisogna riconoscerlo però da qua dire che è la stessa prova allora mi sembra di allargare un po' troppo diciamo questi criteri di identità di cui parlavo prima e questo infatti Hersh e Davis in quel bellissimo libro che citavi appunto anche là un precursore eccetera e loro sono proprio matematici però è su questo io ho una grande differenza con il loro approccio perché appunto loro vogliono quasi ridurre il concetto di verità e matematica con quello di accettabilità sociale e questo secondo me non va bene perché ci sono cioè alla fine ci sono delle proposizioni che sono conseguenze logiche di altre proposizioni e altre no cioè quindi sì benissimo tenere in considerazione la realtà sociale della matematica benissimo darle molta importanza e considerarla essenziale cosa che io faccio ma no ridurre tutto ad essa quindi ci vogliono comunque secondo me dei criteri esterni come diceva Marco prima sì ah no poi sì molte considerazioni mi sono scritta così il discorso di von Neumann infatti è un discorso anche di Dirac che appunto diceva la bellezza conta di più eccetera e sì anche quelli sono temi importanti cioè di cosa accettiamo cosa siamo portati a ricercare così quindi ci sono tantissimi criteri diciamo che vanno a confluire e che sarebbe interessante un po' andare a districare e andare ad articolare in maniera in maniera chiara sì poi ci sarebbero tante altre cose da dire ma penso così di avere toccato su questi due esempi però grazie ancora per per la domanda e magari mi piacerebbe anche parlare di più di queste cose continuo sempre con l'ordine della delle mani alzare c'era Valeria Giardino sì ciao Silvia grazie buongiorno a tutti volevo solo reagire di nuovo su questa questione dell'interesse dei matematici per questi temi semplicemente visto che hai nominato Tim Gowers semplicemente dando un'informazione che Tim Gowers ha appena avuto la cattedra di combinatoria al Collège de France e farà un corso magistrale quest'anno che sarà affiancato da un seminario il cui titolo per ora è la filosofia della pratica matematica quindi adesso non so se questo lo do come elemento di informazione non come argomento di autorità diciamo ma visto che avevi citato forse quindi Gowers è un matematico che da sempre è stato interessato a questi temi però insomma sarà una bella prova diciamo per il pubblico vedere quale sarà la reazione di matematici il Collège de France per chi lo conosce è un'istituzione molto particolare quindi è un pubblico molto particolare però visto che siete interessate a questi temi voglio dare queste informazioni a tutto il gruppo credo che sarà tra l'altro virtuale credo che non non riusciremo a disfarci del covid entro la primavera quindi dovrebbe essere virtuale ma ancora non è certo perché diciamo che in Francia sono molto ottimisti volevo solo dare questa informazione grazie no è interessante infatti in questo caso io sarei contenta se fosse virtuale chiaramente per aggiungere su questo tema si è chiaro che ci sono dei matematici che poi anche si convertono alla filosofia come Hirsch forse eccetera però è vero che resta un problema di linguaggio come dicevo ci sono già purtroppo dei problemi interni alla filosofia cioè varie branche della filosofia che hanno difficoltà a comunicare poi è chiaro che anche per noi filosofi della matematica filosofi della pratica matematica comunicare a un dipartimento di filosofia è difficile perché a livello di metodologia tante diciamo idee della filosofia e della pratica matematica diventano diciamo significative con della sostanza matematica cioè bisogna vedere gli esempi cioè ci sono dei casi di studi eccetera e se questi esempi non sono alla portata appunto del pubblico diventa un problema comunicativo uno cioè anche diciamo c'è il problema magari di avere degli interventi un po' vuoti se manca la sostanza quindi insomma bisogna sempre trovare un equilibrio e non è sempre facile però questo secondo me è da tutte e due le dimensioni cioè anche per i matematici è difficile capire concetti filosofici o la storia della filosofia eccetera io questo lo vedo tantissimo perché insegno qua spesso un corso di filosofia della matematica diciamo della specialistica diciamo equivalente e questo corso l'ho insegnato sia a Stanford che qua a Princeton e di solito ho studenti metà che sono matematici e metà filosofi ed è difficile insegnare perché da un lato sembra sempre che qualcuno si annoia o che qualcuno non capisca quindi insomma bisogna un po' cercare di trovare un terreno comune di appunto avere un po' un atteggiamento collaborativo però è chiaro che ci sono delle sfide ma secondo me sono delle sfide valide che vale la pena di cercare di risolvere c'era una richiesta di intervento anche dalla chat di Ciro Ciliberto sì allora innanzitutto Silvia grazie per la conferenza molto interessante che ha messo a fuoco tanti problemi di cui parlare però il tempo è tiranno e quindi io mi concentrerò su due questioni che ti volevo chiedere una che tu hai trattato nella tua conferenza e un'altra che non mi pare che tu abbia trattato perché poi tra l'altro ho dovuto abbandonare per gli ultimi cinque minuti la tua conferenza quindi non so se l'hai toccato questo tema allora il primo tema è quello dell'intuizione come tu stessa hai detto mi pare durante la conferenza questo è un tema molto complicato e tu hai parlato in sostanza di intuizione ma diciamo come dire è una sorta di intuizione grafica quasi che ha a che fare con l'uso dei diagrammi allora io intanto ho qui sotto gli occhi la definizione di intuizione dal dizionario delle scienze filosofiche treccani e dice in filosofia il rapporto immediato e diretto tra soggetto pensante e oggetto questo rapporto può essere poi inteso come semplice presenza dell'oggetto alla mente o come immedesimazione del soggetto nell'oggetto e poi continua dicendo Platone e Aristotele affermano la possibilità di raggiungere i principi primi mediante l'intuizione intendendo con ciò la possibilità di percepirli direttamente ora poi ci sono varie altre definizioni di intuizione che ho trovato in giro per esempio Bergson dice che l'intuizione è una forma privilegiata di percezione che permette di superare gli schemi dell'intelletto per giungere all'immediata e vera comprensione dell'oggetto e che ne so Asser dice che ritiene l'intuizione idetica l'unica via per cogliere l'essenza degli oggetti insomma ce n'è di tutto e di più di solito poi l'intuizione viene contrapposta al rigore che sempre dal dizionario delle scienze filosofiche treccani viene definito come rigida stretta coerenza con le premesse con il metodo stabilito quindi il rigore diciamo se uno estrapola un po' quello che che qui vuol dire sembrerebbe voler dire un'attinenza stretta a un metodo logico deduttivo diciamo allora io volevo chiederti se ci puoi illuminare su quali sono secondo te i tratti distintivi di questo concetto di intuizione cioè effettivamente quando parliamo di intuizione a cosa ci riferiamo l'altra domanda che ti volevo fare e che ripeto mi pare che riguardi qualcosa di cui tu non hai parlato nella tua conferenza ma che secondo me è attinente allora tu hai parlato naturalmente di dimostrazione di cos'è una dimostrazione cosa viene accettata per essere una dimostrazione eccetera qui ci sarebbe molto da dire ancora perché ci sono delle definizioni matematiche di dimostrazione quindi secondo le quali diciamo il cento per cento dei lavori che viene scritto non contiene dimostrazione insomma se uno magari contiene suggestioni di dimostrazione o suggestioni che possono essere rese dimostrazioni in un modo formale ma diciamo nessuno dei lavori che noi scriviamo contiene una dimostrazione in senso stretto va bene però c'è un altro un altro termine di valore che di solito viene appioppato le dimostrazioni e cioè l'eleganza la bellezza allora questa è una cosa su cui io sono molto scettico personalmente cioè trovo l'accoppiare bellezza a matematica lo trovo una cosa abbastanza diciamo così temeraria perché sono due mondi completamente diversi però volevo chiedere a te che cosa ne pensavi ecco se hai qualcosa da dirci al riguardo ok grazie mille anche queste due domande meriterebbero un'altra ora di conferenza a testa e allora prima di tutto mi faccio un attimo di autopromozione perché nel 2020 è appena uscito un articolo che ho scritto in Erkentnis che si chiama Reconciling Rigor and Intuition quindi proprio esattamente quel tema lì cioè come conciliare l'intuizione e il rigore allora l'intuizione è chiaro che in filosofia cioè ha una storia come appunto accennare enorme cioè non parliamo di Kant soprattutto secondo me il nostro concetto di intuizione viene da Kant appunto la distinzione tra intuizione e concetti e l'idea che appunto concetti senza intuizioni sono vuoti e invece le intuizioni senza concetti sono cieche eccetera cioè quella io inoltre appunto in matematica in particolare il concetto di intuizione lo stesso viene usato in varie maniere diverse ma secondo me sono due forse le maniere principali uno che è l'intuizione appunto dei principi primi degli assiomi cioè gli assiomi come verità intuitive o self evident che poi chiaramente gli assiomi di ZFC non sono esattamente così comunque anche Goedel per esempio ci diceva certi assiomi della teoria degli insiemi si impongono su di noi e quindi quello è un tipo di intuizione in matematica o comunque come viene usata la parola intuizione molto importante e è un il tipo di intuizione su cui non mi non tratto il tipo di intuizione di cui parlavo come hai giustamente detto si tratta più di un'intuizione spazio-temporale quindi quell'intuizione che a volte è stimolato dal nostro guardare i diagrammi a volte anche no però diciamo quell'intuizione che poi è stata bandita dalla matematica quando c'è stato il movimento di rigorizzazione dell'analisi e quando si è visto che questo tipo di intuizione ci portava a risultati sbagliati tipo l'idea che appunto le funzioni continue non potessero essere nowhere differentiable vabbè insomma avete capito la funzione di Weierstrass per esempio l'intuizione ci dice no cioè impossibile invece Weierstrass mostra eccetera e quindi anche l'intuizione geometrica da Oclide eccetera e quello quindi i diagrammi sono stati a livello tradizionale associati a questo tipo di intuizione poi ho mostrato che ci sono diagrammi algebrici che non hanno niente a che fare con quel tipo di intuizione però secondo me questo si può capire anche con il discorso che faceva Felix Klein ha fatto questo discorso all'università mi sembra di Berlino e diceva ogni grande università di matematica ogni grande diciamo dipartimento di matematica deve almeno includere tre tipi di matematici lui chiamava un logico un analitico e un geometra in pratica il geometra come lo diceva appunto è quello che ragiona un po' per intuizioni spazio-temporali e motorie e è un po' appunto quello che volevo intendere io in questo contesto sì e quindi appunto legata soprattutto magari con ragionamenti di topologia bassa dimensione eccetera però è chiaro appunto anche nel tema che a te è più caro appunto nei lavori della scuola italiana di geometria algebrica anche lì bisogna capire cos'è questa intuizione che appunto geometrica che guida e appunto qual è diciamo la sua contrapposizione non fa rigore infatti il problema lì è proprio la mancanza di rigore però un'altra cosa che io voglio dire soprattutto in matematica contemporanea è che l'intuizione e il rigore appunto non sono necessariamente in conflitto tra loro ma possono essere conciliati bisogna però come capire o delimitare il tipo di intuizione o il contesto di uso dell'intuizione appunto a dei contesti in cui questa possa essere possa avere un trattamento rigoroso per esempio nel caso che ho mostrato dei nodi è chiaro che quella piccola dimostrazione cioè quella piccola insomma cosa che vi ho mostrato funziona solo se noi usiamo un'intuizione spazio-temporale però è anche chiaro che io posso benissimo ricollegare diciamo quelle inferenze diagrammatiche a un apparato fondazionale della teoria dei nodi e quindi appunto posso usare quell'intuizione senza cadere nei problemi che vengono dati dall'intuizione infatti un altro un articolo diciamo fondamentale in questo è quello di Hans Han the crisis in intuition anzi era in tedesco infatti un'altra cosa finisco sull'intuizione un altro livello di problematicità è come viene tradotto questo termine anche perché infatti in inglese intuizione può voler dire anche e forse anche in italiano non so non ci penso spesso in italiano comunque intuizione come ha hunch esatto un'intuizione esatto però invece questa intuizione di cui parlavo adesso è la traduzione italiano inglese del termine tedesco unschauung quindi non è avere come una sensazione che questa cosa sia vera ma proprio un'intuizione appunto spazio temporale però appunto ci sarebbe tanto da dire ok questo e poi la seconda domanda riguardava l'aspetto più estetico della matematica quindi Hardy con l'apologia alla matematica non ti ha convinto quindi non penso che potrei convincerti io no secondo me interessante appunto come diceva la prima domanda di Claudio guardare cioè ci sono insomma delle delle discussioni filosofiche che proprio su questo punto dire è vero che ci possono essere dei giudizi genuinamente estetici matematica o sono solo giudizi epistemologici mascherati e quindi secondo me tu magari tenderesti a dire no sono giudizi epistemologici cioè capiamo meglio o capiamo meno meglio è un qualcosa che riguarda la nostra conoscenza non un giudizio prettamente estetico là c'è una questione appunto di c'è un dibattito insomma abbastanza controverso e comunque possiamo vedere anche dal punto di vista dei matematici ci sono delle idee contrastanti sicuramente Hardy Dirac cioè ci sono tanti che hanno parlato appunto di come sono guidati anche da dei dei concetti di eleganza bellezza però appunto non si capisce se li trattano in maniera proprio prettamente estetica allora là bisogna vedere rota anche Carlo Cellucci che è qui forse aveva scritto anche lui sulla bellezza matematica un po' riprendendo rota e cambiando insomma certe cose allora ci stiamo avvicinando alle sei proviamo ancora qualche minuto e una mano alzata quindi lascerei la parola Gabriele Buriola per l'ultimo intervento magari grazie prima di tutto ancora grazie per l'intervento sono decisamente nel gruppo di matematici interessati la mia domanda invece riguardava hai parlato molto di dimostrazioni formali informali corrette scorrette che convincono e volevo sapere come tutto questo apparato va poi a toccare la questione che ci sono anche enunciati veri ma non dimostrabili per cui c'è anche il concetto di verità è in qualche modo indipendente poi dal concetto di dimostrazione quindi come tutta questa riflessione sulle dimostrazioni va poi a toccare l'aspetto che il concetto di verità può essere ancora esterno a tutto questo grazie sì beh cioè questo appunto è un po' Gödel cioè appunto come dicevo all'inizio questo va più che altro a distruggere se vogliamo il sogno di Hilbert come dicevo wir müssen wissen wir werden wissen no invece non lo sapremo cioè quindi ci sono sempre dei limiti alle probabilità formale però appunto quando noi andiamo a guardare le prove informali le possiamo anche riconvertire in diversi sistemi formali e quindi insomma c'è una questione diciamo aperta di come interpretare cioè in quale sistema formale cioè possiamo sempre usare per esempio la lingua della teoria degli insiemi ma avere dei sistemi formali diversi e però appunto la relazione tra prove informali e formali è molto complicata anche appunto cioè messa in evidenza da questi risultati limitativi ok grazie allora direi che possiamo ringraziare Silvia nuovamente da parte di tutti per il bel intervento e a tutti i partecipanti grazie